bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite partendo ovviamente dalla patch che stiamo tutti aspettando la 12.60 non ci sono delle belle notizie ma parleremo anche di quello che sta cambiando in fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi ragazzi per chi non lo sapesse o per chi si sta spaventando non è più disponibile per un periodo di tempo il piccone di star wars che abbiamo preso qualche periodo fa arriva direttamente un tweet dalla pagina di fortnite status che dice stiamo lavorando per risolvere un problema dedicato al riot control button quindi io non me lo ricordo in italiano come si chiama questo il nome in inglese perché sembrerebbe che una volta che venga equipaggiato in realtà mostri il gioco un piccone di default non si sa assolutamente perché succeda questa cosa uno dei bug più particolari che mi siano mai capitati anche perché loro non hanno idea del perché succede questa cosa quindi non vi preoccupate se nel vostro armadietto non potete selezionarlo tra qualche giorno tornerà tutto alla normalità e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché si tratta di una roba dedicata a salva al mondo che però tocca anche il battle nella giornata di ieri è arrivato l'aggiornamento scusatemi il 29 maggio arriverà l'aggiornamento per salva al mondo che lo porterà alla versione 12.60 arriva anche qua un tweet ufficiale che però ci lascia molto l'amaro in bocca che cosa sto dicendo sto dicendo che con il fatto che questa settimana molto probabilmente arriverà un aggiornamento su salva al mondo non sarà disponibile purtroppo nessun aggiornamento per il battle royale e tra l'altro ragazzi non abbiamo nessuna notizia dei file sugli status server né della 12.60 e né della 12.61 ora io non voglio dirvi ho paura che posticipino ancora la season però c'è qualcosa che non sta andando nel verso giusto forse hanno incappato in qualche problema tecnico nessuno ovviamente lo può sapere non ci sono date ufficiali di rilascio della patch quindi mi raccomando attenzione ai clickbait super pesanti e brutta storia ragazzi aspettiamo di sapere qualche novità e andiamo avanti invece con un altro argomento veramente molto interessante perché questa immagine sta letteralmente facendo il giro del web passando attraverso i vari forum dedicati a fortnite e si sta cominciando a vedere in alcuni video di youtube è un'immagine che lascia del mistero dovrebbe secondo alcuni essere un fotogramma dedicato a qualcosa nella stagione 3 molti altri invece dicono che l'immagine sia semplicemente un fake non un fotomontaggio però qualcosa che non c'entra assolutamente con la nuova stagione di fortnite se la esaminiamo un secondo vediamo quella che può sembrare un'isoletta con tre palme una roba strana al centro che sta accendendo un falò non riesco neanche a capire se sia una skin oppure no però ragazzi se doveste vedere questa immagine probabilmente si tratta di un fake quindi prendetela con le pinze per quanto mi riguarda per quanto ne so non c'è ancora nulla di ufficiale nulla riguardante la season 3 di fortnite quindi dobbiamo avere ancora un attimo di pazienza e facendo riferimento a quello che vi dicevo prima ecco qua direttamente gli come si dice i codici dedicati agli status server stiamo vedendo appunto che non è disponibile ancora la pace 12 60 abbiamo però una data potenziale potrebbe essere o il 20 o il 21 maggio mentre l'update che sappiamo arriverà il 12.61 che porterà già degli hotfix all'aggiornamento e probabilmente quello che sarà ovviamente la season 3 arriverà il 27 o il 28 maggio perché poi ovviamente il 4 giugno ci sarà la pace 13.00 per adesso ancora non posticipata staremo a vedere ragazzi purtroppo la situazione è quella che è e prima di salutarci volevo parlare di un altro argomento molto delicato che è veramente esploso in questi giorni parliamo dall 8 9 maggio fino appunto ad adesso e partiamo da questa frase dove dicono che alcuni sostengono che il lo skill base matchmaking sia tornato nella modalità a squad mi spiego meglio siamo lo sappiamo tutti adesso se giochiamo le solo v squad o se giochiamo le squad generalmente abbiamo una possibilità altissima di trovare dei veri e propri bot non inteso come giocatori che non sanno giocare ma inteso come bot mossi dal computer che fanno ovviamente mosse ridicole per quanto riguarda il battle royale alcuni sostengono che epic games abbia riabilitato questa cosa ma è totalmente falso epic games non ha smentito ma non ha ovviamente confermato e io stesso vi posso dire che giocando le partite in squad trovo ancora i bot tutto ragazzi però si sta sta roteando intorno al signor cypher pk che è lui in poche parole che con un video virale di milioni di visual su youtube ha fatto sì almeno così dicono che epic games prendesse la scelta di togliere lo skill base matchmaking solo nella modalità a squad il problema è che la sua la sua idea che è stata presa così seriamente da epic games gli si è ritorta contro inondandolo letteralmente di tweet messaggi post che lo accusano di aver rovinato una modalità base di fortale quindi appunto le partite a squadre che adesso sono assolutamente ridicole lui stesso cerca di difendersi sia su un post che su un video che ha dedicato appunto alla sua difesa dicendo io non volevo che si modificasse drasticamente le partite in squad però facendo dei controlli notiamo che giocando partite in squad non ci sono più di 14 o 15 veri giocatori il che vuol dire che l'80% e più dei player presenti sono bot e appunto l'esperienza di gioco viene rovinata lui sostiene ancora dicendo io avevo fatto questo video perché è difficile per i creator dobbiamo immaginare i creator che fanno video un po' diversi da quelli che faccio io non parlano di news magari fanno le mini challenge magari fanno le mini storie no e riescono utilizzando gli altri giocatori a fare questa cosa in squad purtroppo appunto gli si è ritorta contro questa cosa lui cerca di discolparsi io non gli do così tanta colpa perché alla fine happy games non gliene frega niente anche se uno ha visto due milioni di visualizzazioni però c'è da dire che in questo momento le squad sono un qualcosa di assolutamente ridicolo insomma ragazzi noi siamo qua ad aspettare io quelle news che c'erano ve le ho dette purtroppo niente da fare per la 12.60 ma vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao ciao